Lo scafoide è ancora rotto, ma non mi arrendo. Dai! Dai, dai, dai! Ora mi alleno in modo diverso. Cerco di recuperare. Devo superarmi. Perché il tour è il tour. Arrivano tutti al top della forma. Pensiamo al tour da un anno. Tutte le squadre vogliono vincere una tappa. È la corsa più bella del mondo. Ed è sempre l'obiettivo più importante della stagione. Pogacar e Vingegaard sono i due migliori scalatori del mondo. Ma una defiance può capitare a tutti. Tutti hanno un obiettivo. Vincere.